Nel corso della serata di ieri, 14 marzo, il Movimento Civico Caltagirone Bene in Comune ha presentato parte del lavoro svolto nel corso dei tavoli tematici organizzati in questi mesi e alcune delle prime linee programmatiche che il Movimento, articolato in due liste civica, ha elaborato. Caltagirone Bene in Comune è una scommessa vincente, ha detto il candidato sindaco Fabio Roccuccio. Noi siamo in campo per vincere le elezioni, abbiamo le carte regola per farlo. Stasera in una splendida cornice animata da centinaia di persone desiderose e vogliose di cambiamento abbiamo rassegnato le prime proposte programmatiche per questa città. Vogliamo contraddistinguerci dagli altri anche in questo senso. Nessun deputato, nessuna passerella, ma cittadini, uomini, donne alle quali siamo tenuti a dare risposte concrete per la città. E lo abbiamo fatto sul tema del bilancio, su come si può riequilibrare, su come possiamo mettere a disposizione la nostra interlocuzione con l'ANCE e con l'IFEL e su come si può restituire dignità ai dipendenti comunali che aspettano da mesi il loro legittimo stipendio. Abbiamo spiegato come il tema dei giovani, dell'Europa e della progettazione europea possano e debbano stare insieme. Con proposte concrete abbiamo dimostrato come costruiremo un tavolo di progettazione intersettoriale coordinato da una risorsa esterna a titolo gratuito che renderà possibile la partecipazione del Comune di Caltagirone a tutti i bandi europei in tutti i settori. Abbiamo spiegato concretamente come si può e si deve avviare un'azione che si fa carico degli ultimi, dei bisognosi. Abbiamo detto a chiare lettere che proporremo il regolamento sul baratto amministrativo, perché il principio per cui le tasse si pagano è un principio inderogabile, ma anche la condizione di disagio di molti nostri cittadini che non possono pagare va tenuta in considerazione e va tenuta in considerazione offrendo loro la possibilità di espletare servizi utili per la comunità. Questo per un verso sancisce il principio che le tasse vanno pagate, consente al Comune di occuparsi degli ultimi e dei più deboli e consente all'amministrazione di erogare servizi a tutela dell'intera comunità che altrimenti in condizioni di ristrettezza economica come quella che viviamo non sarebbe possibile erogare. Abbiamo dimostrato come tante persone animate da onestà, passione e tanta, tanta competenza possano mettersi al servizio di una comunità come la nostra, mettendoci la faccia, la passione giusta e la competenza giusta. Caltagirone può e deve cambiare. Caltagirone è bene in Comune, è una scommessa ed è una scommessa vincente. Noi siamo in campo per vincere le elezioni e per governare la città e siamo in grado di dimostrare a tutti che abbiamo le carte in regola per farlo.